Possiamo pure stare qui a raccontarcela, ma i videogiochi danno sempre il loro meglio su PC. Gli appassionati però sanno fin troppo bene quanto può essere costoso un computer in grado di far girare alla massima qualità i titoli di ultima generazione. Lo abbiamo visto anche con i lanci più recenti come Cyberpunk o Flight Simulator, che sono solo due degli esempi di giochi che mettono a dura prova l'hardware di fascia più alta. Qui non vorremmo soffermarci però più di tanto su quanto sia dispendioso assemblare un PC top di gamma. Bensì andremo ad analizzare alcuni tra i migliori componenti da acquistare per costruirlo. E per farlo sfrutteremo una build completamente a marchio MSI. All'interno della macchina fornitaci dal brand troviamo un processore Intel Core i9-10900K, raffreddato da un dissipatore a liquid MSI Core Liquid 360 RH, 32GB di memoria RAM DDR4 a data XPG, un SSD a data SX8002 da 1TB e infine un RTX 3090 Gaming Geeks Trio. Il tutto montato su una scheda madre MSI Z490 Meg Unify e alimentatore MSI MPGA850GF. La build è assemblata all'interno di un ampio case anch'esso MSI, per la precisione il Sekira 500X. Dotato di paratie in vetro temperato con un'apertura facilitata, doppia ventola frontale da 200 mm e possibilità di installare due ventole nella parte superiore anch'esse da 200 mm. Il Sekira 500X è un case elegante, bello e funzionale che offre tutto lo spazio necessario per ospitare qualsiasi genere di configurazione, loop custom inclusi. Si tratta insomma di una build di fascia molto alta, di fatto la migliore che può essere assemblata se si desidera abbinare una GPU Nvidia a un processore Intel. Il Core i9 10900K è l'attuale CPU top di gamma di Intel, dotata di 10 Core 23D in grado di raggiungere una frequenza in boost massima di 5.3 GHz. La dissipazione in questo caso è affidata all'MSI Core Liquid 360RH, che è dotato di un blocco CPU particolarmente compatto e impreziosito da LED RGB. La pompa infatti è direttamente all'interno del radiatore da 360, che riesce a tenere a bada la CPU anche nelle situazioni più impegnative. La Z490 Mag Unify è una scheda madre particolare invece, caratterizzata dall'assenza di LED RGB e che permette di fare build un po' vecchio stile, senza luci ma comunque molto eleganti. Immancabili ormai gli slot M2, in questo caso 3 per la Unify, un VRM a 16 fasi, supporto per le DDR4 fino a 5000 MHz, oltre a una porta LAN 2.5G. Infine la 3090 Gaming Geeks Trio. È semplicemente la miglior scheda video presente ad oggi, la nuova top di gamma di Nvidia offre prestazioni incredibili nei giochi anche in ray tracing attivo. Inoltre grazie ai 24GB di VRAM è perfetta anche per i creator e i professionisti più esigenti. Per valutare le prestazioni però di questa configurazione gaming abbiamo scelto 11 titoli diversi, creando un mix tra AAA, simulatori di guida, FPS e giochi e-sports. I test sono stati eseguiti impostando il preset grafico a ultra ovviamente e misurando il framerate con il software Nvidia FrameView. A risoluzione 4K la 3090 riesce a gestire in tranquillità qualunque gioco, anche i più pesanti. Abbiamo notato qualche incertezza solo in Assassin's Creed Valhalla, in questo caso basterà comunque ritoccare qualche impostazione grafica come ad esempio le ombre, per superare tranquillamente i 60fps anche nell'ultimo titolo Ubisoft. Anche attivando il ray tracing nei giochi che lo supportano le prestazioni rimangono buone, principalmente grazie all'aiuto di un ottimo DLSS. Watch Dogs Legion e Crysis Remastered si fermano poco sopra i 50fps, ma anche in questo caso basterà ritoccare qualche dettaglio grafico o impostare il DLSS in modalità prestazioni per superare anche qui tranquillamente i 60fps. In Quad HD la build gestisce facilmente qualunque gioco, rimanendo sempre abbondantemente sopra i 60, anche con effetti ray tracing attivi. Avvicinandosi poi ai 200fps in titoli come Fortnite, Formula 1, 2020 Death Stranding, Doom Eternal o Wolfenstein Youngblood, ma anche tanti altri titoli. Le prestazioni insomma abbiamo capito essere eccellenti, ma è il momento di toccare il tasto più dolente. Quanto costa un PC come questo? In apertura vi abbiamo anticipato che le configurazioni top di gamma con a bordo i componenti migliori sono costose, ma cosa significa di preciso? Al momento MSI non vende la configurazione fatta e finita, quindi faremo le nostre valutazioni sul prezzo dei singoli componenti, alcuni dei quali possono essere acquistati direttamente dallo store ufficiale. Il Cori 9 al momento ha un costo di circa 530€ su Amazon, mentre la scheda madre, in questo caso la Unify, può essere acquistata direttamente dallo store MSI a 319€. Il kit da 32GB XPG Spectrix non è al momento disponibile per l'acquisto, ma è possibile dotarsi di un doppio kit da 16 per circa 220€, mentre l'SSD, sempre adatta, in questo caso l'SX 8200, la versione da 1TB in particolare, ha un costo di 160. La Gaming X Trio invece è il componente più costoso della configurazione e anche il più difficile da reperire. Di listino il prezzo è fissato a 1879€, anche se al momento il mercato delle schede video, lo sapete tutti, è parecchio in difficoltà, dato che praticamente tutte le nuove RTX 3000, Radeon RX 6000, ma anche tante altre schede degli anni precedenti risultano praticamente introvabili. Quindi dovrete attendere ancora almeno qualche tempo prima di poterla recuperare. Per concludere, il dissipatore MAG Core Liquid 360 ha un prezzo di 179€, il Sekira 500X costa 295€, e infine l'alimentatore è acquistabile a poco più di 150€. E tutti e tre questi ultimi componenti sono disponibili all'acquisto sullo shop ufficiale di MSI. A conti fatti, assemblare quindi una build di questo tipo costerebbe circa 4000€, poco meno, 3741€ per la precisione. La cifra è importante, lo sappiamo. Si tratta però di un PC gaming che non ha assolutamente rivali quando si parla di prestazioni in 4K. Un computer come questo assicura le migliori prestazioni sia nei giochi, soprattutto quando si parla anche di gestione del ray tracing, sia nella stragrande maggioranza di applicativi professionali. E ovviamente, per quanto riguarda il gaming, garantisce anche una longevità piuttosto elevata. Grazie per la visione!